Buonasera a tutti ragazzi sono Orcuverde, in questo terzo video di oggi volevo informarvi che Rockstar ha confermato nuovi hangar e costruzioni hangar che usciranno domani con DLC Smuggles Run DLC Contrabandieri. Rockstar poco fa ha rilasciato questo post con scritto nuove costruzioni hangar sono il tuo capoluogo per gestire il tuo business di contrabbando guidato da un nervoso Ron e Charlie il tuo nuovo meccanico perciò ci sarà un nuovo meccanico chiamato Charlie come già Rockstar aveva confermato tramite l'articolo del sito Rockstar Newswire quando ha rilasciato il trailer di questo nuovo DLC. Poi sicuramente usciranno altri velivoli come aerei, elicotteri e ultraleggeri che Rockstar non ha confermato in questo weekend che però è presente nel trailer come ad esempio l'elicottero Hunter eccetera eccetera eccetera. Non manca molto per l'uscita di questo nuovo DLC, vi ricordo che i prezzi di questi contenuti sicuramente costeranno una valanga di soldi, vi serviranno sicuramente i big money. Se non avete soldi su gt online o comunque sia avete pochi soldi vi consiglio di sfruttare uno dei tre money glitch funzionanti attualmente su gt online che ho caricato in questi giorni nel canale per farvi qualche milione da poter spendere per i nuovi contenuti che usciranno domani con DLC Smuggles Run, DLC Contrabbandieri. In questo weekend Rockstar ha confermato vari contenuti come velivoli eccetera 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 che usciranno domani con questo nuovo DLC. Ho caricato un video per ogni contenuto confermato da Rockstar in questo weekend in questi ultimi tre giorni perciò se non l'avete ancora visti vi invito a darci un'occhiata. E niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollice in in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orko Verde tutto il cinema, prossimo video, bella!